L'ipocrisia è un vizio di moda e come tutti i vizi di moda diventa virtù. La parte dell'uomo per bene è la migliore da recitare. Sì, ogni vizio della natura umana viene criticato apertamente, viene esposto a censura. L'ipocrisia no, l'ipocrisia è un vizio privilegiato, gode di grande rispettabilità e nessuno osa protestare, chiude la bocca a tutti. Poi, a furia di dire bugie, si crea come una società di complici, tutti uniti, tutti compatti. Se ne tocchi uno, tocchi tutti gli altri. E allora l'uomo veramente onesto, la persona per bene, viene presa in giro e cade nella rete degli ipocriti. E allora l'uomo veramente onesto, la persona per bene, viene presa in giro e cade nella rete degli ipocriti. Grazie. 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 Grazie.